E' entrato di prepotenza, come racconterò anche qui in scena, perché è entrato in maniera inaspettata, lo dico senza nessun compiacimento, io sono figlio di un operaio e di una casalinga che avevo una grande opinione della cultura ma non è che fossimo degli intellettuali e che a un certo punto per una serie di fortuite coincidenze sono finito in un'università in cui a un certo punto mi hanno cominciato a parlare di Shakespeare e l'ho cominciato a leggere, come si legge in qualsiasi libro anche per curiosità, non sapevo che c'era parte di un canone, che ci fosse un tempio in cui dovevo entrare solo a certe condizioni. Ed è entrato però allora, subdolo, perché è entrato così come una roba normale e invece mi trovo ad avere questa religione ormai, la bardolatria. Ed è entrato così, è entrato spiegandomi un sacco di cose sulla vita, sugli esseri umani, su di me. Pesati, 400 anni prima di me aveva pensato a me. Eh certo, mi sembra una conclusione perfetta, il coronamento di un festival, poi a Verona dove sappiamo tutti sono nati e cresciuti da piccoli, Romeo e Giulietta, come prova il balcone, che è proprio originale. E per cui è il posto giusto. I due gentili, non dimentichiamo, i due gentiluomini di Verona, vogliamo dimenticarli, non si possono dimenticare, è come un incubo, non te li dimentichi. E Rellir, se fosse stato Re Veneto? Rellir ha un capannone? No, un capannone, Asolo, zona Asolo. Sono tutti veneti, anche Macbeth. Ah sì, più verso la montagna, però. E Amleto? Ah, Amleto, guarda. Amleto è proprio del Treviso, ma proprio tanto del Treviso. Beh, io lì ho creato poco, perché avevo la fortuna di avere Giorgio Gobbo, che ha fatto tutto, e abbiamo, tra l'altro abbiamo dei documenti di primo ordine, perché facciamo sentire un sonetto di Shakespeare che viene adattato alla musica pop nel secolo scorso e che diventa subito top of the pops in 30 secondi, per cui facciamo sentire alla gente la pregnanza di Shakespeare oggi.